Immagino quello che dicono su Cili, ma è il nostro infiltrato numero uno. Cili e io, questi li conosciamo. L'uomo Iena. Io riuscirò a fermarlo per sempre. Stai alla grande, assomiglia a un pavone. Chi è che assomiglia a un pavone? Mettiamoci all'opera. Ricevuto. Ecco l'uomo. Tranquillo, Cili. Avanti, fatelo fuori! Dove è andato? Maledetti idioti! Ho ordinato il rilascio dell'uomo Iena. Mancanza di prove. Ti porto nel seminterrato. Seminterrato? Non c'è un piano più basso del seminterrato. Scopra che cosa sta architettando la sua gang o arresterò il suo amico. Non la deluderemo, signore. Sembra che rubino l'oro. Cili potrebbe infiltrarsi facilmente nella gang. Ti unisco a loro per i number number. I number number. Rapina. Non siamo criminali. Il suo amico ci ha traditi. Ti voglio bene. Finiamola. Usa la pistola, amico! Lo sai che non posso sparare in mezzo alla gente! Ti voglio bene. Ti voglio bene.